Siamo con Alessandro Forconi, responsabile area trading e mercati di VBank. Dottor Forconi, quali sono i sentimenti suscitati da questa ventunesima edizione dell'IT Forum? Direi che questo IT Forum ancora una volta risponde assolutamente alle aspettative, nel senso che è una manifestazione molto importante, una delle manifestazioni fondamentali dell'anno per il settore del trading online e in generale per il settore degli investimenti. Francamente mi ha stupito molto la grande domanda da parte di tutti i partecipanti verso la formazione. La formazione sta diventando veramente l'elemento critico e l'elemento più importante e più ancora delle offerte commerciali. Se si cammina per i vari stand che ci sono, si vedrà che il numero di offerte commerciali è molto basso da parte di tutti, mentre invece la parte di offerta formativa sta diventando critica e assolutamente l'elemento principale di offerta di tutti i player. Dunque formazione e direi anche innovazione al centro di questa edizione dell'IT Forum. Quali sono dal punto di vista di VBank le principali novità per i vostri clienti? Allora come novità diciamo di prodotti e servizi quello che introduciamo sono dei margini ridotti sul future sul minifib dove abbiamo margini di 600 euro per un contratto sul servizio super derivati e quindi la possibilità anche con un investimento molto ridotto di entrare su questo mercato. Poi abbiamo attivato l'operatività sui micro future, su Standard & Poor's, Nasdaq e Dow Jones che sono degli strumenti appena partiti sui mercati ma che hanno riscontrato immediatamente un forte gradimento da parte degli operatori. E terza cosa, offriamo la possibilità a chi apre un conto dal 1 giugno al 15 di luglio presso i VBank di poter essere estratti tra 10 partecipanti e andare a fare una giornata di formazione presso il mercato dei derivati Eurex con anche una visita alla borsa di Francoforte. Quindi ancora una volta un'offerta che non è un'offerta commerciale di prezzo ma al contrario un'offerta formativa perché riteniamo che questo per i VBank in particolare sia uno degli elementi fondanti per il futuro. Tanta formazione per i VBank. Ringrazio Alessandro Forconi, ricordo responsabile area trading e mercati di VBank.